credo di no 79 vediamo sta splash art di questa non mi permetto minimamente perché tu lo puoi dire però io non mi permetto perché non si gode marietto è quello sotto e tira le sue povere stelle jade per acchiapparla è quello sotto sfiancato fatemela prendere eccola qua si può arrivare alla fine del gradino ma non ce la faccio eccola qua ciao jade io rimarrei così va bene va bene e allora ragazzi la live per oggi è finita qui è finita qua grazie per l'attenzione è stato un piacere ci vediamo direttamente la prossima volta è domenica 50 è sempre così ragazzi è sempre così con lui è sempre così è sempre così ora vediamo 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 che cos'è ok allora ci questa era la noma 50 quindi questo è 41 42 no però gli mancava l'aveva detto che gli mancava il nonno che gli mancava oh gli mancava il nonno 5 stelle doppio 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 da uno c'è uno c'è grazie carla sei fantastica dai vediamo allora sicuramente è lei ma è solo lei no c'è natasha natasha e subito lei a pt 76 ci sono altre otto singole vediamo avete scelto il destino di albi avete scelto il destino di albi potrebbe essere qualsiasi lo odio ok ok eccola yet hope is priceless eccola ce l'abbiamo io mi immagino albi seduto grazie marty che bello sono molto felice sto saltando dalla gioia perché ho trovato la light con di jade grazie mille ok andiamo a 50 adesso c'è il personaggio del banner garantito perché ci sarà light oh qui c'è questa è lei ok oh meno male aveva preso early oh va bene vediamo a quale pd perché qui c'è anche la multi gatti quindi è vero eh sì quasi a 41 è la prima singola 41 42 43 43 prima dei gatti molto bene esatto stai io non c'ho fatto direi 44 43 adesso doppia però 44 si riparte 1 2 natasha top 2 3 4 5 6 7 fine della multi perché era alla terza ok l'abbiamo trovata molto prima a 43 gg si è fatto pochissimo pull bene perché così almeno almeno si può si può appunto troviamo erri pure qui troviamo erri magari sì sì ah dubito topaz una topaz una una topaz due topaz tre topaz tre topaz quattro Mauro ma che cos'è ma che cos'è rara ho la truppo ma pure tu ucca è sto sentendo u Difela guarda manca san dei è tutto no ma stai quattro no ragazzi qui fai fagli una foto fagli brava scrivita tutto ok facciamo da 10 facciamo da 10 va bene nel caso esca a metà multi ti tieni 5 singoletti adesso doppia arma possibilmente la seconda diversa così abbiamo di nuovo il garantito di quando arriva Venturin eh magari potrebbe essere un'idea almeno su questo banner ci teniamo un garantito dai vediamo adesso 62 63 64 65 eccolo 66 67 68 68 eccola oh perfetto io adoro come come facciamo no vabbè concentrati molti dei 5 stelle c'è bene non si va 85 è già qualcosa oh ok ok 75 76 77 78 l'aveva detto l'aveva detto che se non usciva il suo preferito era questo che lo voleva perché gli serviva un preservation va bene va bene si ha detto che gli mancavano i preservation e se non gli usciva lei voleva lui quindi gli va bene era l'unica tra virgolette winning condition all'interno del losing condition ok allora vado di molti siamo a 70 andiamo a 80 se esce dopo la 80 si va di singole let's go meno male meno male meno male sta cessona e non è altro che poi si può dire tutto tranne che sta cessona però però onestamente allora 71 72 73 ok tutti e 3 6 Marco per il futuro questi sono tutti pool tutti e 3 li abbiamo finiti tutti top top perfetto almeno questi diventano tutti pool ok 74 buono 75 76 quindi ha vinto il no perché siamo a 76 e non è ancora uscito elena grazie per il follow perché appunto la cosa era esce prima del soft pity no perché siamo a 76 quindi ha vinto no ha vinto pdc da solo che si è fatto praticamente 6 milioni di punti 77 78 a 78 la signorina giada quindi non potete capire che sto male veramente perché sorrido sempre ok vabbè pity 69 andiamo a pity 69 oh dio oh dio oh dio è l'uso grazie il pane ho l'ansia è tutto è l'uso ok 69 69 69 Che ansia 69 69 Ragazzi ma dove cazzo è sta arma? Ma che pizzeri Marco? Ma io non ce la faccio 69 Sì 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 è tenuto 78 Ci siamo Ci siamo Aiuto Aiuto Ma questo banner fa proprio schifo raga Ma questo banner fa proprio schifo Vorrei anche io cazzo Ma l'hai uno? La voglio io l'hai uno Invece di avere bailu e due di merda Questo banner fa proprio schifo E l'hai uno Boh Allora Marco ha perso il 50 e 52 volte Però con il meglio che potesse uscire Un'accanto lì Simpatica Let's go Let's go 5 stelle Quindi c'è 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 Dai Giada Dici che non sei sola Vogliamo una doppia Giada 75 75 Ok Non è uscita al soft 76 77 78 Oh Dove sta? 79 80 80 80 Giada Allora Ma ti pare il caso? 80 Disgraziata L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto Penso bene Vada Ci siamo Dai 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 Settantadue Settantatree Settantatree Settantaquattro Settantacinque Settantasei Settantasette Settantot Che poi non è settanta È sessanta Però vabbè Ormai sto c'è Settantat Settantotto Ragazzi Sessantanove È la prossima La prossima è Sessantanove Non me l'aspettavo questa Mi sono spaventata La prossima è Pd69 Io non ci credo Era Era il momento Era giusto Alisce Era giusto Ti mancava Era giusto Era giusto Ragazzi Ci siamo Eh sì Albi È il tuo destino Ci siamo Settantuno Settantuno Settantadue Settantatree Settantaquattro Settantacinque Settantasei Basta 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 Peppy Settantasette L'ha detto Lightcon di Bailu La voleva La voleva Oddio 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 Il Dream Il Dream Il Dream Il Dream Il Dream Di qualche singola Sessantuno Sessantadue Alberto 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 A sessantadue Gli hai chiamato La bambina Settantasette Settantasette Oh Dai Cioè Abbastanza un cazzo Però Poteva essere Di più Settantasette Ce l'abbiamo Francia Oh Eccoci qua La Eccola Settantasette Settantasette Mi sento come il tipo sotto Ha scritto Ottimo Cinque stelle Dai Dai Settantuno Che in realtà è sessantuno Dai Sessantadue Sessantatré Sessantaquattro Siamo al soft Sessantacinque Ottimo Ci siamo Sessantasei Sessantasette Sessantotto Sessantotto Sessant Non ci credo Sessantanove Non ci credo Non è vero Non è vero Non è Non è Reale Ragazzi Non è Reale Sessantate